Come noi, riempiamo ai nostri debitori, e non ci indurre l'obbligazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è l'ora della nostra morte, amè. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli, amè. Gesù, perdona le nostre colpe, presta, il frutto dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le persone, le osse della tua misericordia, regina della pace, prega per noi, lo dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, 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 Gesù Grazie a tutti. 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 Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Gesù e sempre di Maria. O Gesù, perdona le nostre folie, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra ricordia. Regina della pace, prega per noi. Gesù, io spero in te. Gesù, io spero in te. Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione della Vergine in cielo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra Dammi oggi il nostro pane quotidiano e rivendi a noi i nostri debiti Come noi ci vediamo i nostri debitori e noi ci vediamo in meditazione e in maniera città Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù